Mi dà la comunicazione con Londra? Vorrei Mr. Churchill! È Mr. Churchill personalmente all'apparecchio? Yes! Mr. Churchill, ditemi una cosa, la guerra come va? Oh, Miss, tutto va bene, tutto va assai bene, oh yes, all right, della Polonia! Non c'è più traccia, anche la Francia, cambio la faccia, il Lussemburgo è cancellato, Olanda e Belgio, tutto occupato, in Danimar cacca, più non si sbarca cacca! Del norvegese, le avete prese, come vedete va assai bene, anche Parigi ne conviene, Tutto va bene, tutto va bene! Signorina, non mi interrompa, sto parlando con Londra, con Mr. Churchill! Yes! Mr. Churchill, come van le cose lì sul vostro suol? Oh, Miss, tutto va bene, tutto va assai bene, oh yes, all right! Le bombe piovono da tutti i lati, cantieri e fabbriche sono incendiati, i nostri porti già scompassati, naviglie scorte, tutti affondati, le pance soffrono per le razioni, in più non si dorme, per le incursioni, come vedete va assai bene, anche l'Australia ne conviene, tutto va bene, tutto va bene! Mr. Churchill, non mi dilungo, cesso, lo ringrazio molto, arrivederlo, thank you very much! All right!